Nel Tiguglio vaccini somministrati a domicilio, iniziativa della Croce Rossa di Santa Margherita Ligore. Intanto oggi in Asdal 4 ci sono 560 nuovi soggetti positivi al Covid-19, gli ospedalizzati sono 32, ovvero due in più rispetto a ieri, e 29 sono ricoverati a Sestervante e 3 a Lavagna, dove sono due in più rispetto a ieri. Le sovveglianze attive nel territorio del Tiguglio sono 610. Al via oggi nel Tiguglio il servizio di vaccinazione anti-Covid-19 a domicilio. Si tratta di un'iniziativa della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure che consente alle persone che non possono recarsi nei centri vaccinali di ricevere la somministrazione della prima, seconda o terza dose in base alla situazione. L'idea è stata di un nostro volontario medico, spiega Fernanda Ronci, presidente della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure. Abbiamo avanzato la proposta all'Asdal 4 che ha accettato e siamo partiti. Di volta in volta l'azienda sanitaria del Tiguglio ci fornisce i nominativi delle persone da immunizzare. Noi ci richiamo presso l'ospedale di Rapallo a prelevare le dosi e l'equip medica e partiamo. Così hanno fatto questa mattina, primo giorno del servizio. Tra Santa Margherita Ligure e Rapallo sono state somministrate 13 vaccini. Venerdì si ripete in base alle prenotazioni che Asdal 4 riceverà e smisterà alla Croce Rossa. Intanto oggi in Asdal 4 ci sono 560 nuovi soggetti positivi al Covid-19. Gli ospedalizzati sono 32, ovvero due in più rispetto a ieri. 29 sono ricoverati a Sestenevante e tre a Lavagna, dove sono due in più rispetto a ieri. Le sorveglianze attive, sempre nel Tiguglio, sono 610. Ieri in Consiglio regionale abbiamo discusso per la seconda volta in due mesi dell'ennesimo trasferimento del reparto di medicina oncopneumo ematologica che è allocato presso l'ospedale di Sestenevante. È una vicenda che ha del paradossale un reparto che ho definito ballerino perché è stato spostato ben nove volte negli ultimi due anni. A riguardo ho fatto un accesso agli atti per capire le ragioni che hanno sotteso questo continuo trasferimento, con gravissimo disagio per gli operatori, per i pazienti. In questo accesso agli atti ho chiesto anche ragione dei costi sostenuti. Sono molto preoccupato perché non vorrei che alla fine di questo balletto il reparto venisse smembrato e portato via dall'ospedale di Sestenevante, con gravissimo danno ai pazienti, soprattutto della Val Petronio. Un reparto che si occupa di persone fragili, di persone con gravi difficoltà e che va salvaguardato e per questo io mi batterò con tutte le mie forze. Non si tratta di una bocciatura, bensì di un atto tecnico inevitabile, viste le caratteristiche tecniche del bilancio preventivo adottato dalla precedente direzione aziendale. Così il direttore amministrativo Luigi Bertorello e il direttore della struttura complessa bilancio e contabilità Nicola Corte dell'ASL4 sulla mancata approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte di Regione Liguria. I due spiegano che il documento non era tecnicamente approvabile, chiudendo con un saldo negativo. Ciò è dovuto al fatto che la direzione aziendale precedente ha contabilizzato in sede previsionale 6 milioni di euro di costi per la gestione dell'emergenza Covid, relativi al solo primo semestre dell'anno, quota di disavanzo non coperta dunque da specifici finanziamenti. Non si tratta quindi di un buco di bilancio. Nella nota si sottolinea infatti che ASL4 ha segnalato in anticipo in varie sedi e ufficializzato in più occasioni la necessità di risorse specifiche per coprire l'emergenza coronavirus. Oggi c'è stata una riunione in città metropolitana tra gli enti competenti e anche i sindaci della Fontana Buona per decidere sulla chiusura per i lavori sul tunnel Balgagli Ferriere. Pare che la chiusura ci debba essere ma potrebbe non essere di 120 giorni, bensì solamente di 40. Già sarebbe un passo avanti, anche se indubbiamente ci saranno delle problematiche sul traffico, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico. Prima ci dovrà essere comunque la riasfaltatura della strada di Boasi perché sarà la via alternativa da percorrere e la chiusura dei cantieri posti sul versante di Traso. Queste le novità ad oggi che non sono ancora definitive. In teoria, ripeto, i lavori potrebbero partire il 21 febbraio, ma prima, e lo ripeto, dovrebbero essere risolti i problemi della riasfaltatura della Ferriere Boasi e chiudere i cantieri, sennò si sommerebbero problemi a problemi. Un intervento da 20 milioni di Euro, quindi 40 miliardi delle vecchie lire, un intervento pesante che metterà a norma la struttura perché ci sono dei problemi di carattere ingegneristico, cioè l'arco rovescio, soprattutto dalla parte verso Balgagli, stringe sull'asfalto e difatti alza l'asfaltatura. In altri punti invece ci sono delle infiltrazioni sulla volta. Oltre questo va messo in sicurezza dal punto di vista tecnologico tutta la struttura, anche per eventuali incendi che si dovessero verificare, è previsto che partano in automatico un impianto di spegnimento di eventuali incendi. Ripeto, 20 milioni di Euro sono tanti, comporteranno dei problemi, però poi ci troveremo finalmente un tunnel un pochino più all'altezza dei tempi. Il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, si è ufficialmente candidata per la segreteria del Partito Democratico della Liguria. Domani, giovedì 20 gennaio, la prima cittadina della Bimare presenterà la propria candidatura a Genova. Lo slogan scelto da Ghio è un'alternativa radicale per la Liguria, nessuno si sente escluso. Nata a Sestri Levante il 5 maggio 1971, Ghio è laureato in lettere a Genova con una tesi in storia contemporanea relativa ai processi a carico dei collaborazionisti con il regime fascista nel Levante e Ligure. Ha iniziato a lavorare nella cooperazione sociale e poi nella progettazione di interventi e servizi a supporto dell'occupazione femminile e anche di fasce deboli, oltre che nella gestione di progetti europei per la provincia di Genova. Dal 2003 al 2008 è stata assessora alla cultura, pubblica istruzione, politiche giovanili, politiche sociali, della solidarietà del comune di Sestri Levante. Nel giugno del 2013 è stata eletta sindaco di Sestri Levante, nel 2018 è rieletta al primo turno al secondo mandato. Dal 2015 è vice sindaco della città metropolitana di Genova con delega d'agenda digitale, pari opportunità, piano strategico metropolitano, politiche del territorio, assistenza ai comuni, semplificazione amministrativa. Dal 2018 è responsabile nazionale dell'area tematica turismo del Partito Democratico. Ieri i dati diffusi dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco hanno evidenziato come nella città ruentina ci siano 1010 persone positive al Covid-19. Sulla vicenda è intervenuto il circolo cittadino del Partito Democratico in cui il segretario Gianluca Cecconi afferma che giustamente si è deciso di abolire la tradizionale fiera di San Sebastiano per evitare i soliti assembramenti, ma si chiede perché si permette invece lo sbarazzo di fine mese. Il PD auspica dunque che aumentino i controlli in città per il rispetto delle norme anticontagio ed auspica una maggiore responsabilità da parte dell'amministrazione comunale di Rapallo nel programmare e organizzare eventi in un periodo così delicato. Nella tarda mattinata di oggi si è verificato a Sestri Levante un incidente stradale. A scontrarsi una moto e un'automobile in via Petronio nella frazione di Riva Trigoso. Un motociclista è stato soccorso dal servizio 118 Tiguglio e trasferito con l'ausilio dell'elicottero all'ospedale San Martino di Genova. L'uomo era stabile e cosciente si è procurato un trauma cranico per essere stato trascinato dall'automobile durante l'impatto sulla strada. Ancora da stabilire infatti l'esatta dinamica dell'incidente. Non volevo fare il professore stamattina ma mi è caro portare a conoscenza diciamo di quello che ho vissuto che non è altro che il covid è una malattia che in questo momento ci attenna a tutti anche se fino che diciamo non ci ha preso un po' per le orecchie la sottovalutiamo da tanti punti di vista. Diciamo è andata così dopo una decina di giorni che ero a casa che non ce la facevo più perché comunque la saturazione questa malattia come sapete prende diciamo i polmoni in quasi il 90% delle persone e diciamo mi ha preso la saturazione ce l'avevo 80 quando sono andato via mia moglie ha chiamato l'ambulanza mi ha portato via quando mi hanno dato l'ossigeno ho detto mi sembra di rivivere per la seconda volta e mi hanno portato all'ospedale di Lavagna al pronto soccorso i quali immediatamente mi hanno fatto diciamo tutti gli accertamenti del caso e mi hanno fatto un attacco col contrasto per vedere se ci sono dei trombi nei polmoni perché comunque il pericolo principale di questa malattia è quello dopodiché mi hanno preso mi hanno messo mi hanno addossato il casco che il casco come sapete non è tanto ben visto da nessuno perché comunque una sentenza abbastanza importante e niente ho fatto circa 50 ore di casco che è quello che mi ha salvato perché il casco non è altro che un casco vero e proprio che ti indossano che ha un motore che pompa ossigeno ora lo dico molto grossolanamente ma comunque tante persone magari lo sanno anche meglio di me e niente ti pompano questo ossigeno ti fanno girare l'ossigeno nei polmoni perché comunque io ho avuto una broncopolmonite bilaterale intestiziale vale a dire che è una delle più brutte che ha diciamo ti si infierisce dentro i polmoni ed è difficile anche da da scacciare oltretutto questa è pericolosa anche nel giro di sei mesi se ti se ti ritorna molto probabilmente non lo so se se uno riesce a cavarsela per questo per l'esperienza con vissuto e per comunque diciamo anche girando sento dire sento parlare le persone ho voluto portare la mia testimonianza a tutte le persone che ascolteranno questo programma perché alle volte si prende un po sotto gamba questa malattia però quando sei all'ospedale che ci stai tipo come io ci sono stato 90 25 giorni ti rendi conto che è letale se ti prende bene e è importante anche reagire ma comunque è importante trovare anche delle persone come ho trovato io che mi hanno reso diciamo mi hanno dato una tranquillità no nel senso ho visto le persone competenti ho visto le persone umane ho visto le persone che comunque erano lì per lavorare per mandarti a casa non per far passare l'orologio che arrivasse le otto di sera per andare a casa quindi tutti i giorni che dio mandava anche quando diciamo era festa ok io per dire ci sono stato per l'immacolata ma i dottori incessantemente proprio tre volte al giorno passavano no sia infermieri che che dottori incessante un lavoro incessante così parlando un po con loro mi hanno detto che comunque sono due anni che non hanno tregua che comunque delle volte c'erano anche delle dottoresse lì così che hanno dei figli e tutto quasi quasi dicono crescono che noi non li vediamo perché comunque se siamo qua non possiamo essere a casa e questi e quindi questo è importante perché comunque sono persone come noi sono persone umane che comunque hanno bisogno anche della loro famiglia e in questo momento devono darsi da fare per affrontare questo problema qua che è molto importante lì così nell'ospedale devo dire la verità non solo i dottori ma dal gruppo infermieristico al personale che faceva comunque anche i letti la mattina le pulizie perché comunque due volte al giorno ti fanno letto due tre volte al giorno facevano pulizia c'era una pulizia che potevi mangiare per terra sul pavimento quindi io innanzitutto non ho nessun titolo ma per quello che mi riguarda da cittadino dico state attenti mettetevi la mascherina vaccinati o no perché questo non importa perché comunque questo qua ti prende a tutte le maniere anche perché si è dilagato in una maniera che secondo me è incontrollabile quindi mascherina e distanziamento e non fare quei gruppi da tutte le parti 10 15 20 le mangiate si lasciano perdere e si mangia quando si può tanto siamo tutti grassi e quindi io devo dire la verità vedevo alla notte di giorno potevano essere le tre di notte come le tre di pomeriggio se uno schiacciava il campanello in tre secondi arrivavano lì anche perché comunque uno quando quando suona il campanello in quel reparto lì non lo suona perché vuole l'acqua minerale nel senso c'è dei problemi grossi il problema principale è la respirazione come dicevo come potete vedere mi ha lasciato ancora un residuo che è questo è un concentratore portatile che serve quando diciamo la saturazione è bassa no ti riporta la saturazione più o meno specialmente adesso che la polmonite è passata a livello giusto che deve essere 98 99 100 ma a me più di 97 in questo momento non va perché comunque ci vorrà un po di mesi prima che si riprenda i polmoni diciamo grazie a tutti questi diciamo professionisti ognuno nella veste in cui ricopre come ho detto prima dottori infermieri e personale ha detto alle pulizie a qualsiasi cosa perché lì erano tutti disponibili grazie a tutti grazie a tutti